Stresa ha estinto anticipatamente i propri mutui attraverso l'utilizzo di 323.000 euro dell'avanzo di amministrazione. La variazione di bilancio è stata approvata dalla sola maggioranza nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale. Si è stenuto Alfredo Macri del Giudice di Uniti per Stresa mentre hanno votato contro Alessandro Bertolino e Stefania Sala di Progetto Comune, la cui capogruppo Marcella Severino è arrivata in un secondo momento. Grazie all'operazione le casse comunali potranno effettuare maggiori spese correnti per 33.000 euro nel 2019 e per 65.000 euro nel 2020. L'ente ha però dovuto fare i conti con una minore entrata pari a 65.000 euro a causa della cessazione anticipata della gestione dell'ente fiera del Palazzo dei Congressi. La variazione di bilancio ha così previsto che i 65.000 euro vengano colmati dal recupero dell'evasione fiscale. In seduta segreta si è tornati a discutere di un annoso problema per Stresa, come quello inerente alle piscine comunali di Carciano. Invece, di fronte al pubblico, il consigliere di minoranza Macri del Giudice ha letto la propria interpellanza sui lavori al marciapiede e ai sottoservizi di Corso Italia. Si sarebbero dovuti concludere per Pasqua, invece nuovamente la città si è fatta trovare impreparata all'arrivo dei turisti a causa di una pianificazione sbagliata da parte dell'amministrazione comunale, che avrebbe dovuto incominciare l'intervento fino a ottobre e invece aspettato fino a metà febbraio, ha chiosato Macri del Giudice. Abbiamo dovuto attendere il nuovo anno per avere la copertura finanziaria, replicato il sindaco Giuseppe Bottini. I disguidi ci sono stati, soprattutto con i commercianti, ma al lavoro finito possiamo dire che tutti saranno contenti e poi le tempistiche sono state rispettate dall'azienda, 120 giorni più 30 di proroga, visto che quando si interviene sottoterra ci possono sempre essere degli imprevisti.